Conferenza stampa congiunta questa mattina di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale e Forza Italia di Fano su un tema che sta diventando sempre più scottante e che anche l'opinione pubblica avverte fortemente, vedi gli episodi di intolleranza al foro boario, l'accattonaggio e l'abusivismo. L'ordinanza anti-accattonaggio invasivo e l'abusivismo confermata ed ampliata dal sindaco di Pesaro Ricci e le risposte non convincenti a questo riguardo del sindaco di Fano Massimo Seri che vorrebbe conoscere meglio queste persone e circoscrivere il fenomeno per controllarlo hanno allarmato gli esponenti locali delle due parti politiche. A Pesaro il sindaco ha attuato l'ordinanza per combattere questo fenomeno, l'ha migliorata attraverso il decreto Minniti, Fano blizz attraverso carabinieri e polizia municipale e chiaramente queste persone disturbate comunque tutti i giorni nella loro attività abusiva, molti di essi si trasferiscono in luoghi dove non esiste questa ordinanza come qui a Fano. Noi stiamo parlando di persone che tutte le mattine arrivano con il treno e la stazione ferroviaria, la sera ripartono dopo aver fatto l'accattonaggio comunque ormai un loro mestiere stabile. Io ritengo necessario che il sindaco debba intervenire e rimango molto perplesso dell'uscita che ha fatto giorni fa dove invece di intervenire in maniera seria e efficiente come succede anche a Pesaro vuole dare in qualche modo il riconoscimento, lo status di legalità a queste persone addirittura attivando i servizi sociali. Fratelli d'Italia ha presentato una mozione inoltre in consiglio comunale questo mese per chiedere alla giunta azioni precise a questo riguardo con la conseguenza però di essere stati tacciati di razzismo. Ho soltanto detto che c'è una situazione sgradevole in tutti i parcheggi di Fano, purtroppo una situazione che dà fastidio ai cittadini e quindi a questo punto se sono razzista io che ho espresso quello che è una problematica cittadina, tutti quelli che la pensano come me sono razzisti. O soprattutto se esiste una cosa grave che secondo me è stata detta fuori luogo, forse non sapevano il significato della parola, avere a cuore la sicurezza di persone, di cittadini fanesi, soprattutto se donne e bambini che comunque purtroppo avranno libertà di uscire da soli di casa, non è che devono stare reclusi. Io penso che sia soltanto voler bene alla propria città, qui invece per una volontà politica e soprattutto cosa che fa più male è vedere da chi sventola la bandiera della pace e della legalità, ragazzi, una cosa del genere è veramente vergognoso.